E quindi profitti dei profiterol nel secondo semestre Scusa un attimo, mi è arrivato un messaggio importante Ok Stai giocando a Pokémon Go, vero? Non muoverti, hai un Pikachu sul naso! Ciao! Ti ritrovi anche tu in questa situazione Questo gioco rende tutti stupidi Ti riconosci anche tu in questo pensiero? Come se non avessimo già abbastanza zombie per le strade Hai formulato anche tu questa riflessione? Questo gioco è la rovina dell'umanità Hai giudicato anche tu questo giudizio? Odio la gente che si diverte, dovrebbero tutti fare come me Al posto di divertirsi e lamentarsi della gente che si diverte Non preoccuparti, esiste un prodotto fatto su misura per te Un secchio di cavoli tuoi Un secchio di cavoli tuoi è la soluzione ai tuoi problemi Wow, un geodude Fermo! Fatti un secchio di cavoli tuoi! Un secchio di cavoli tuoi agisce efficacemente sull'ipertensione, dilatando i vasi sanguigni Il cavolo ha molte proprietà rilassanti Lascia che le persone si divertano con ciò che le diverte Se tu hai di meglio a cui pensare al tuo secchio di cavoli tuoi Un secchio di cavoli tuoi contiene moltissime vitamine ed è disponibile in varie colorazioni Quindi da oggi, quando sei infastidito da Gennaro il Bullo che è diventato capopalestra di Piazza San Marco E questa cosa porta alla rovina dell'umanità perché la gente dovrebbe dedicarsi ad attività più produttive come salvare il mondo Fai la scelta giusta, fatti un bel secchio di cavoli tuoi! Secchio di cavoli tuoi è un presidio medico chirurgico Attenzione, mangiare solamente i cavoli e non il secchio Tu 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 tu